Un saluto dal Tg della mobilità, oltre 169,4 milioni di euro alle regioni per l'acquisto di treni da destinare al trasporto pubblico locale o per l'acquisto di ricambio attrezzatura di riqualificazione dei treni già in dotazione. Le risorse previste in precedenti leggi di Brilancio sono state ripartite con un decreto firmato dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e riguardano le annualità dal 2021 al 2033. Nella ripartizione dei fondi si è tenuto conto sia di indicatori di natura demografica che dell'offerta di servizi di trasporto. Complessivamente alle regioni del sud è stata assicurata la quota del 34% prevista per legge per gli investimenti pubblici. A Lazio va l'11% circa delle risorse, ovvero poco più di 19 milioni di euro. E tutto appuntamento alla prossima edizione.